Caffè 24, Radiogenius e Fiasp presentano Podismo Informato. Cari amici di Fiasp, Podismo Informato, buonasera a tutti e ben ritrovati a questo appuntamento che da Caffè TV 24 va in onda tutte le settimane per parlare del podismo in padovana e non solo. Allora questa settimana chiaramente è una pausa diciamo così non prevista se vogliamo ma comunque non ci sono manifestazioni in programma per quanto riguarda il comitato di padova ma chiaramente usciamo da una settimana molto intensa anche per quanto riguarda proprio le nostre attività l'impegno che abbiamo avuto in questi giorni a livello organizzativo sono importanti e ci vedono diciamo così uscire da quelle che sono state i rinnovi delle cariche del comitato per il prossimo quadriennio. Il prossimo quadriennio che mi vedrà ancora una volta ahimè a capo della diciamo così dell'organizzazione del comitato di padova ma sarò affiancato in questo mio percorso da dieci amici che sono stati eletti appunto nell'assemblea di lunedì sera e che sono alcuni volti che voi ben conoscete in particolare mi riferisco a Piercarlo Cavalletto e Matteo Fasolato che normalmente condividono con me l'esperienza di FIASP podismo informato Carla Caregnato, Dario Vettorato e poi una serie di persone che si affacciano all'interno del comitato come organizzazione per la prima volta e parlo dell'amico Aristide Battistelli in rappresentanza dell'associazione Alintesa San Paolo piuttosto che Paolo Faccin del gruppo Caputmundi Fabio Faggin del gruppo podistico dell'Atletica Foredil di San Giorgio delle Pertiche Donato Bernardinello in rappresentanza del gruppo Corrieste De Blasio che è il nostro amico del gruppo Solani Runners Federico Camon del gruppo Corrile Mura Corri e quindi abbiamo una compagina che sicuramente rappresenta tutto il territorio da nord a sud, da est a ovest e dalla provincia di Padova questa settimana diciamo così una settimana un attimino di studio, di riorganizzazione la settimana prossima chiaramente inizieremo a lavorare per costruire il nuovo comitato per andare a definire quelle che saranno le cariche all'interno del comitato e le attività che poi ci andremo a organizzare per il prossimo quadriennio quindi io intanto ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa e coloro che hanno accettato di buon grado di mettersi a disposizione chiaramente ci sono anche dei non eletti sono Federico Peruzzo e Gianni Frison che sono due persone che rimarranno comunque fanno parte importante del nostro staff e saranno persone che saranno poi le nostre rappresentanti in seno all'Assemblea Nazionale Fiaspa quindi noi saremo tutti impegnati per portare avanti per questi prossimi 4 anni l'iniziativa del comitato settimana scorsa l'appuntamento clou che noi avevamo era la 45esima passo di fine inverno una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 2200 partecipanti 64 gruppi podistici presenti un percorsi di 22 chilometri 14 e 7 chilometri lungo diciamo così i pendii dei colli Ugane in parte sud occidentale quindi Riva Dolmo di Baone, Calaone, Valle San Giorgio, Montecero Baone appunto capoluogo percorsi molto belli una giornata veramente bella anche dal punto di vista climatico la possibilità quindi di assaporare i colli nella loro bellezza e nel loro fiorire splendente abbiamo anche visto ahimè i segni di qualche incendio boschivo purtroppo è una piaga alla quale dobbiamo comunque far fronte e un po' diciamo così il compito anche nostro come podisti è quello di osservare il territorio, di presidiarlo e anche magari di portare un po' di pulizia per quanto ci riguarda quindi se troviamo qualcosa lungo strada si chiama Plugging ed è un'iniziativa diciamo così di raccolta delle mondizie fatta per chi cammina e corre che contribuisce alla diciamo così alla qualità della vita del nostro pianeta e sicuramente per quanto riguarda il nostro piccolo le nostre manifestazioni e il territorio che noi normalmente utilizziamo per andare a camminare e correre che dire poi chiaramente questa settimana è una settimana come dicevo nella quale non abbiamo manifestazioni podistiche specifiche in programma in provincia di Padova ma sicuramente i nostri vicini di provincia parlo di Vicenza e Verona in modo particolare non ci fanno mancare certo appuntamenti e comincerai subito a parlare ad esempio di San Pietro di Morubbio in frazione Buonavicina la camminata dei tre campanini in festa siamo in provincia di Verona su percorsi di 6, 9, 14 e 20 chilometri con partenza dalle ore 8 e 30 alle ore 9 ricordo che domenica entra in vigore l'ora legale per cui l'anticipo di un'ora rispetto all'orario attuale a Caltrano in provincia di Vicenza la marcia delle contrade di 4, 5, 10 e 20 chilometri partenza dalle ore 8 alle ore 9 e 30 in provincia di Vicenza andiamo poi oltre e andiamo sempre in provincia di Vicenza a Bassano del Grappa per la marcia delle acque di 4, 6, 12 e 20 chilometri il ritrovo è dalle ore 7 circa la partenza dalle 7 e 30 alle ore 9 e 30 abbiamo poi a Concordia e Sagittari in provincia di Venezia la marcia dei fiori di chilometri 6, 14 e 20 partenza ore 20 diciamo poi che abbiamo a Legnago in provincia di Verona la marcia Anget di 6, 13 e 17 chilometri anche in questo caso partenza 8 e 30 9 e poi chiaramente andiamo alla prossima settimana per finire a Montebello Vicentino tra Visele e Olivares 4, 5, 7, 13, 20 e 32 chilometri con partenza dalle ore 7 alle ore 10 questo a Montebello Vicentino in provincia di Vicenza per quanto riguarda le attività nel territorio in provincia di Padova ricordo i nostri appuntamenti settimanali gli allenamenti collettivi che come sempre i nostri gruppi propongono ricordo sicuramente al gruppo Caminare 2017 che organizza il lunedì e il giovedì gli appuntamenti di allenamento collettivo di Nordic World in specie nella località Abano e Selvazzano il martedì e giovedì vado di corsa a Campo San Piero Villa Campiello organizzazione Capotmundi ritrovo ore 19.45 ripeto in Villa Campello Piove di Sacco sempre il martedì il training 19.30 fronte Duomo di Piove di Sacco con i classici appuntamenti e le distanze di circa 10 km per i runner e 6 km per i camminatori organizzato dal gruppo Rain Runners il mercoledì gli appuntamenti di Camina e Corri per Taggi di Sotto a Taggi di Sotto ritrovo di fronte la chiesa di San Nicolò alle ore 19.30 circa per i camminatori il Camina e Corri per il tuo comune a San Giorgio delle Perti che ritrovo attorno alle 19.45 impianti sportivi di San Giorgio delle Perti che organizzazione atletica Foreedil a Montagnana il mercoledì sera sempre l'appuntamento in Piazza Trieste a Montagnana 19.45 Corri le Mura Corri ASD Corri le Mura e per finire il mercoledì Paleo Run che questa settimana fa tappa a Rubano con i classici percorsi di circa 6 km per i camminatori e 9 km per i runner il giovedì invece cammina e corri per Ciosa e Marina ritrovo a Sottomarina in Piazza Europa ore 19.30 percorsi di circa 10 km il giovedì sera invece l'appuntamento di questa settimana alla Corri per Padova ci vedrà in collaborazione appunto con Fiamme Oro e Comune di Padova per il classico classica uscita settimanale del giovedì per finire Nordic senza barriere ad Abano Montegrotto con le distanze classiche di circa 5 km e mezzo 6 km per i camminatori io direi con questo è tutto io vi ringrazio e vi do appuntamento alla settimana prossima con Fiasp e Podismo Informato buonasera a tutti Cafè24 Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato